Cosa stiamo facendo tazzare? C'era a fare mare il valento potente Basta, 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 basta Non mi scenderei, scendo prima di tutti, mi interessa, guarda come si fa Oh ma è merda Ti mani nell'area? No, no, faccio il primaio di tutti Eccole, eccole davanti a te mare, non scendere lì Ma non lo fermi Mare, scendi dietro Mi muovo di qua Soldato nemico in arrivo Il primo principale è l'eliminazione dei bersagli E perché non gli dici entrare in casa? Una pistola Chi è entrato? Non ci sono uno Chiuditi dentro la casa Chi però è? Eh, guardami Sali su Ma tu hai capito? Ma tu hai capito? Aspetta, sei senza corazze Con la pistolina lo fa Mare, occhio Cazzo Sali su Non fa rumore Allen, io sono qua Va, esce Spostati da lì Nemico in discesa nell'area operativa E l'altro è solo qui Mi muovo Lo so Sta entrando, sta entrando Le fatti da lì, le fatti Le fatti Sta appena entra lo scappucchio con questo Guardami, Allen Sì Sta entratelo giuro lo scappucchio con questo Perchè non metti il tuo bel vicino fuori? Oh ma merda Dai, lo so che sei dentro a casa Dove sei, eh? Ragazza di miserabile Dove sei? Dove sei? Qua c'è, eh? Eccolo Qui c'è Pezza Merda Adesso vengo con Silenzio di tomba Eh no, non andare Sì, sì Soldato nemico in arrivo Aspetta Vedi che c'è quello di qua Mi sparano Toh, sì ma niente altro Mario occhio Occhio da te Come il sotto Eccolo qua Team ha nientato 4 eccisioni Bravi Ragazzi Team ha nientato Ragazzi Che giocata Che giocata Bravi Da quella porta stava entrando Secondo lui E adesso gioco solo con l'RPG No, non puoi capire quanto è forte questa Questa arma Dov'è la macchina? Eccola Eccola Veicolo nemico Ciò la tiro giù, eh Allen Allen Occhio Occhio, occhio, occhio Cazzo, sono qui In movimento In movimento Siamo nella zona sicura I nemici stanno arrivando Oh nooo Cazzo Nooo Gli avevo fatti, Allen Gli avevo fatti Allen Gli avevo fatti Preparati a combattere Sei il prossimo Allen Guarda, guarda Mettiti davanti a me Mettiti davanti a me Vieni, vieni Vieni Allen Aiutami Aspetta Alla tua sinistra In fondo alla sinistra In fondo A sinistra A sinistra 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 In fondo Eccolo qua Eccolo qua Stai tornando ai primarini 5 incisioni Ragazzi 5 incisioni Ragazzi E si va E si vola Si vola Si vola Allen Scatenato sono Sono scatenato Grande Scende anche lui Ragazzi Ragazzi Scatenati oggi Qualcuno serve questa roba Qua scende Dai Su Scatenato sono Su Questa la vinciamo Prendo io Prendo io Vediamo se c'è qualche pellegrino Tu Ci sei qualcuno Non c'è nessuno Prendiamo Mi muovo di qua Aspetta che prendo la conquista Obiettivo aggiornato Che avete sicurezza a quella posizione Chi mi spara? Chi mi spara? Ma mi sparano eh Questa parte Questa parte Questa parte C'è un RPG? Questa parte Questa parte C'è un RPG? Tutto luttato Eh? No no Possibile che sia tutto luttato Dai Mi serve le RPG È una bella mitraglietta Mitragliatrice Trovata Una bella mitraglietta Lì sopra Io vado a fare la conquista dai Ce la vogliamo Vediamo qua Non so se ci sono Non so se ci sono Non so se ci sono Niente Occhio salendo eh Arriva un lancio di equipaggiamento C'è vero se c'è qualcuno in questa casa Ehmè Mi sposto Fufi Spostamento della zona sicura Mi muovo di qua Eh che devo farmi entrare Mamma mia Che schifo di gioco Cazzo Mi fa incazzare Cerchi di entrare E non ti fa entrare C'è un'altra C'è un'altra Oh io ho un'arma di merda eh C'è Chi è entrato? No non sono No io ho per tutto Ah fucile a canali già marcato Il bersaglio lì Eccolo Beh aspetta 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 Ti manientato Ragazzi ti manientato sui uccisioni Bravo Qua c'è gente Mi serve qualcosa qui c'è un venditore Alin proteggimi Proteggimi al volo Vieni di qua Aspetta Proteggimi al volo Sopra Fammi Andare sopra Prima Porca puttana Dove cazzo Aspetta Mario Avete fatto il lancio? No no Non andare al lancio Non andare al lancio Ancora Cazzo Mi stanno già sparando Maledetti Ora salito sopra No no frega te Frega te Fai questa conquista Bombardamento Grande Ok ricarichiamo Inizio Mario Ho marcato dell'equifacciamento Sistema trofi pronto Eh sono le amici al lancio Ma vai tranquillo tu Sto facendo una conquista Sto facendo una conquista No io sto facendo una conquista Eccolo Alan Alan non sparare Qui c'è un bersaglio Fammi finire questa conquista Il volo Informazioni tattiche in sicurezza Ucchile d'assalto trovato Alan No 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 Rianimi subito Ma dove c'è il bombardamento Facci fuori Sui Ma dove c'è la sinistra tua La sinistra tua La sinistra tua Cazzo Mario ma tu scendi a prendere le colazze Invece Che l'abbiamo fatta Stai tranquillo C'è ancora il gulag Ma perché tu sei già fuori senza fare il gulag Non lo so E' io sono l'unico strontro che ancora dentro Guarda che c'è l'unico altro lì Aline sono morto Non lo so Non lo so Non lo so Sali sopra se c'è c'è chino Foggi Oh santo dio Oh santo dio Mamma mia Ma come mai sono fuori Non lo so Perché c'è ancora il coso con l'evasione imminente Ma non ci sono davanti a te Davanti a te sono al lancio No non salire su No ma perché non scappare via Perché non li ha amati La cassa d'oro Cassa d'oro Ho visto Ho visto No ma niente soldi Porco giuda Non cercare soldi C'è una casa dietro Assinale a destra No è fuori No qua non c'è più niente ormai Nei dentro quella casetta c'è C'è un nemico Ah no Lo vedi Aline No non lo fare Aline non lo fare Aline non lo fare Non lo fare Ti ha visto Aline c'hai C'hai quasi i soldi per rischierarmi Non fare una cazzata del genere Ti sta mirando Ti sta mirando Vattene fuggi Dentro questa casa vai Saltella anche tu Saltella anche tu Eeeh cazzo Nero c'è qui Che soldi Che soldi Hai sentuto? Hai sentito la canestra? C'erano i soldi giuaci No la cassa dall'altro lato Si libera Davanti a te davanti a te Aline L'ho visto, l'ho visto L'ho visto Ho visto Ho visto l'ho visto L'ho visto, l'ho visto l'ho visto Dannazione scusami è